In fila, nonostante il freddo, il nevischio, il ghiaccio che resta della nevicata caduta su New York nei giorni scorsi solo per incontrare il neosindaco Bill de Blasio nella sua nuova dimora. In realtà, Gracie Mansion è la residenza ufficiale dei primi cittadini della Grande Mela fin dagli anni 40 che il predecessore Bloomberg ha contribuito a ristrutturare senza trasferirsi mai. Invece l'italo-americano non solo ci andrà a stare con la famiglia lasciando il suo appartamento a Brooklyn ma per un giorno ha aperto le porte della villa coloniale a centinaia di americani. postando poi alcune foto su Twitter con tanto di benvenuti alla Casa del Popolo, come la chiamata, e ringraziamenti a chi ha reso possibile l'apertura. La casa, che fu costruita nel 1799 dal mercante Gracie, si trova sulla ricca Upper East Side di Manhattan e fu per anni un museo. Per i cittadini, quindi, l'inaugurazione voluta da De Blasio è stata un'occasione per visitarla e per strappare una stretta di mano e una fotoricordo con il sindaco.